Punto terzo. Dalla invocazione dei santi. È utile ricorrere all'intercessione dei santi? Qui cade poi il dubbio se sia necessario ricorrere ancora all'intercessione dei santi per ottenere le divine grazie. In quanto al dire che sia cosa lecita ed utile l'invocare i santi, come intercessori ad impietrarci per i meriti di Gesù Cristo, quel che noi dei nostri di meriti non siamo degni di ottenere, questa è dottrina già della Chiesa, come ha dichiarato il Concilio di Trento. Tale invocazione era condannata dall'Empio Calvino, ma troppo ingiustamente. Se è lecito e profittevole l'invocare il nostro soccorso i santi viventi e pregarli che ci assistano con le loro azioni, come faceva il profeta Baruch, che diceva, per noi pure pregate il Dio nostro, e San Paolo, fratelli pregate per noi, e Dio medesimo volle che gli amici di Giobbe si raccomandassero alle di lui orazioni, a ciò che per i meriti di Giobbe egli li favorisse. Se è lecito dunque raccomandarsi ai vivi, perché non ha da essere lecito l'invocare i santi che in cielo più da vicino godono Dio? Ciò non è derogare all'onore che a Dio si deve, ma duplicarlo, come è l'onorare il re non solo nella sua persona, ma ancora nei suoi servi, che perciò, dice San Tommaso, essere bene che si ricorra a molti santi, perché con le orazioni di molti alle volte si ottiene ciò che non si consegue per l'orazione di uno solo. Che se poi, dicesse taluno, ma che serve ricorrere ai santi affinché preghino per noi, quando essi già pregano per tutti coloro che ne sono degni? Risponde lo stesso santo dottore, che alcuno non sarebbe già degno che i santi preghino per lui, ma ne è appunto fatto degno perché ricorre con devozione al santo medesimo. È conveniente ricorrere alle anime del purgatorio? Si controverte poi se giovi il raccomandarsi alle anime del purgatorio. Alcuni dicono che le anime purganti non possono pregare per noi, indotti dell'autorità di San Tommaso, il quale dice che quelle anime, stando a purgarsi tra le pene, sono a noi inferiori e perciò non sono in stato di pregare, ma bensì che si preghi per esse. Ma molti altri dottori, come il bellarmino, Silvio, il cardinale, Gotti, eccetera, molto probabilmente la fermano, dovendosi pieamente credere che Dio manifesta loro le nostre orazioni, affinché quelle santi anime preghino per noi. E così tra noi e loro si conservi questo bel commercio di carità, cioè che a noi preghiamo per esse ed esse per noi. Ne osta, come dicono Silvio e Gotti, quel che ha detto l'angelico di non essere le anime purganti in stato di pregare, perché altro è in non essere in stato di pregare, altro in non poter pregare. È vero che quelle anime sante non sono in stato di pregare, perché, come dice San Tommaso, stando a patire, sono inferiori a noi e più presto bisognose delle nostre orazioni. Nulla di meno, in tale stato, ben possono pregare, perché sono anime amiche di Dio. Semmai un padre ama teneramente un figlio, ma lo tiene carcerato a fine di punirlo di qualche difetto commesso. Il figlio, allora, non è stato di pregare per sé, ma perché egli non può pregare per gli altri? E non sperare di ottenere ciò che chiede sapendo l'affetto che gli porta il padre? Così, essendo le anime del purgatorio molto amate da Dio e confermate in grazia, non va impedimento che possa loro vietare di pregarlo per noi. La Chiesa, peraltro, non suole invocarle ed implorare la loro intercessione, perché, ordinariamente, esse non conoscono le nostre orazioni. Ma appiamente si crede, come si è detto, che il Signore faccia loro note le nostre preghiere ed allora esse, che sono piene di carità, non lasciano certamente di pregare per noi. Santa Caterina di Bologna, quando desiderava qualche grazia, ricorreva alle anime del purgatorio e ben presto si vedeva esaudita. Anzi, attestava che molte grazie che non aveva ottenute per l'intercessione dei Santi le aveva poi conseguite per mezzo delle anime del purgatorio. Dell'obbligo di pregare per le anime del purgatorio. Ma qui mi si permette di fare una digressione a beneficio di quelle sante anime. Se vogliamo noi il soccorso delle loro orazioni, è bene che ancora noi attendiamo a soccorrere con le nostre orazioni ed opere. Di sì è bene, ma anche deve dirsi essere questo uno dei doveri cristiani, poiché richiede la carità che noi sovveniamo il prossimo quando il prossimo sta in necessità del nostro aiuto e noi possiamo aiutarlo senza grave incomodo. Ora è certo che i nostri prossimi sono ancora le anime del purgatorio, le quali benché non siano più in questa vita, nulla di meno non lasciano ad essere nella comunione dei Santi. Dice Sant'Agostino e più distintamente lo dichiara Sant'Tommaso a nostro proposito, dicendo che la carità dovuta verso i defunti, i quali sono passati all'altra vita in grazia, è un'istensione di quella stessa carità che dobbiamo verso i nostri prossimi viventi. Onde è che noi dobbiamo soccorrere secondo possiamo anche quelle sante anime come i nostri prossimi? Ed essendo le loro necessità maggiori di quelle degli altri prossimi, maggiore ancora per questo riguardo par che sia il nostro dovere di sovvenirle. Ora in quali necessità si ritrovano quelle sante prigioniere? E' certo che le loro pene sono immense. Il fuoco che le crucia, dice Sant'Agostino, è più tormentoso di qualunque pena che possa affliggere l'uomo in questa vita. E lo stesso stima Sant'Ommaso aggiungendo essere quello il medesimo fuoco dell'inferno, e cioè in quanto alla pena del senso, ma assai più grande è poi la pena del danno, cioè la privazione di Dio che affligge quelle sue sante spose, mentre quelle anime non sono dal naturale, ma anche dal soprannaturale amore di cui ardono verso Dio, sono tirate con tal impeto ad unirsi con il loro bene, che vedendosi poi impedite dalle loro colpe, provano una pena sia acerba che se esse fossero capaci di morte, morirebbero in ogni momento. Sicché, secondo, dice il Crisostomo, a questa pena della privazione di Dio tormenta immensamente più che la pena del senso, ond'è che quelle sante spose vorrebbero patire tutte le altre pene, anziché essere private in un solo momento di quella sospirata unione con Dio. Dice pertanto il maestro angelico che la pena del purgatorio eccede ogni dolore che può patirsi in questa vita, e riferisce Dionisio Cartusiano, che è un certo defunto, poi risorto per intercessione di San Girolamo, disse a San Cirillo Gerosolomitano che tutti i tormenti di questa terra sono sollievi e delizie a rispetto della minor pena che vede nel purgatorio, e soggiunse che se un uomo avesse provato quelle pene, vorrebbe più presto soffrire tutti i dolori di questa vita, che hanno patito gli uomini fino al giorno del giudizio, che patire per un giorno solo la minor pena del purgatorio. Onde scrisse il nominato San Cirillo che quelle pene, in quanto alla sprezza, sono le stesse che quelle dell'inferno, in questo solo riferiscono che non sono eterne. Le pene dunque di quelle anime sono troppo grandi, dall'altra parte non possono aiutarsi da sé, e se, secondo quel che dice Giobbe, sono in catena ed hanno dati dai lacci di povertà. Sono già destinate al regno di quelle sante regine, ma sono trattenute intanto che non giunge il termine della loro purga, sicché non possono aiutarsi, almeno a sufficienza, se vogliamo credere a quei dottori, i quali vogliono che quelle anime, ben possano anche con le loro orazioni, impetrare qualche sollievo per sciogliersi da quelle catene, finché non soddisfano interamente la divina giustizia. Così appunto disse dal purgatorio un monaco cistercense al sacristano del suo monastero. Aiutatemi, vi prego, con le vostre orazioni, perché io, da per me, niente posso ottenere. E ciò è secondo quel che dice San Buonaventura, cioè che quelle anime sono si povere, che non hanno come soddisfare. All'incontro, essendo certo, anzi di fede, che noi possiamo con i nostri suffragi e principalmente con le nostre orazioni approvate o anche praticate dalla Chiesa, sollevare quelle santi anime. Io non so come possa essere scusato da colpa chi trascura di porcere loro qualche aiuto, almeno con le sue orazioni. Ci muovo almeno a soccorrerle, se non ci muove il dovere, il gusto che si dà a Gesù Cristo in vedere che noi ci applichiamo a sprigionare quelle sue dilette spose, a ciò che le abbia seco in paradiso. Ci muovo almeno finalmente l'acquisto dei grandi meriti che possiamo fare con usare questo grande atto di carità verso di quelle sante anime, le quali all'incontro sono gratissime e ben conoscono il gran beneficio che noi loro facciamo, sollevandole da quelle pene e ottenendo con le nostre orazioni l'anticipo della loro entrata alla gloria, onde non lasceranno allorché elle saranno ivi giunte di pregare per noi. E se il Signore promette la sua misericordia a chi usa misericordia al suo prossimo, beati i misericordiosi, perché questi troveranno misericordia. Con molta ragione può sperare la sua salute che attende a sovvenire quelle sante anime così afflitte e così care a Dio. Jonathan, dopo aver procurato la salute degli ebrei con la vittoria che ottenne dai nemici, fu unannato a morte da Saul, suo padre, per essersi cibato del miele contro l'ordine da lui dato. Ma il popolo si presentò a Redis e dovrà dunque morire Gionata, il quale ha salvato Israele. Or così appunto dobbiamo sperare che se mai qualcuno di noi ottiene con le sue orazioni che un'anima esca dal purgatorio e vada in paradiso. Quell'anima dirà a Dio, Signore, non permettere che si perda colui che mi ha liberato dalle pene. E se Saul concesse la vita a Gionata per le suppliche del popolo, non negherai Dio la salute eterna a quel fedele per le preghiere ed un'anima che gli è sposa. Inoltre, dice Sant'Agostino, che coloro che in questa vita avranno più soccorso con le sante anime dell'altra stando nel purgatorio, farà a Dio che siano più soccorsi degli altri. Si avverta che il più gran suffragio per le anime purganti è sentirla messa per esse ed in quelle raccomandarle a Dio per i meriti della passione di Gesù Cristo, dicendo così, Eterno Padre, io vi offro questo sacrificio dal corpo e del sangue di Gesù Cristo con tutti i dolori che gli patì nella sua vita e morte e per i meriti della sua passione vi raccomando le anime del purgatorio e specialmente eccetera. Ed è alto di molta carità raccomandare nello stesso tempo anche le anime di tutti gli agonizzanti. L'invocazione dei santi è necessaria Quanto si è detto delle anime purganti circa il punto se esse possono o no pregare per noi e se pertanto a noi giovi o no il raccomandarci alle loro orazioni non corre certamente al rispetto dei santi poiché in quanto ai santi non può dubitarsi essere utilissimo il ricorre alla loro intercessione parlando dei santi già canonizzati della Chiesa che già godono la vista di Dio nel che il credere infallibile fallibile la Chiesa non può scusarsi da colpa o da eresia come vogliono San Buonaventura il Bellarmino ed altri o almeno prossima all'eresia come tengono il Suarez l'Azzorio il Gotti eccetera poiché il Sommo Pontefice nel canonizzare i santi principalmente come insegna l'Angelico guidato dall'istinto infallibile dello Spirito Santo ma ritorniamo al dubbio di sopra proposto se vi sia anche obbligo di ricorrere all'intercessione dei santi io non voglio entrare a decidere questo punto ma non posso lasciare di esporre una dottrina dell'Angelico egli primeramente in più luoghi rapportati di sopra e specialmente nel libro delle sentenze suppone per certo esser tenuto ciascuno a pregare poiché in altro modo non possono come asserisce ottenersi da Dio le grazie necessarie alla salute se non si domandano in altro luogo poi dello stesso libro il santo propone appunto il dubbio se dobbiamo pregare i santi affinché interpellino per noi e risponde così per far capire bene il sentimento del santo bisogna riferire l'intero suo testo è l'ordine divinamente istituito nelle cose secondo Dionisio che per via dei mezzi ultimi si riconducano a Dio è però i santi che sono nella patria essendo vicinissimi a Dio l'ordine della divina legge richiede questo che noi i quali rimanendo nel corpo pellegriniamo lungi da Signore veniamo ricondotti a Lui per la mediazione dei santi il che appunto avviene quando per mezzo di essi la divina bontà diffonde gli effetti suoi e perché il nostro ritorno a Dio deve corrispondere al procedimento della bontà di Lui verso di noi siccome i benefici di Dio ci provengono mediante i suffragi dei santi così fa duopo che noi siamo ricondotti a Dio affinché di nuovo riceviamo i benefici di Lui per la mediazione dei santi e quindi è che noi ristabiliamo nostri intercessori appresso Dio e quasi mediatori quando loro domandiamo che preghino per noi si notino quelle parole l'ordine della divina legge richiede questo e specialmente poi si notino le ultime siccome per intercessione dei santi provengono in noi i benefici del Signore così fa duopo che noi ci riconduciamo a Dio affinché di nuovo riceviamo benefici per la meditazione dei santi sicché secondo San Tommaso l'ordine della divina legge richiede che noi mortali per mezzo dei santi ci salviamo con ricevere per mezzo loro gli aiuti necessari alla salute e dall'opposizione che si fa l'angelico cioè che par superfluo ricorrere ai santi mentre Dio è infinitamente più di loro misericordioso e propenso ad esaudirci risponde che ciò ha disposto il Signore non già per difetto dalla sua clemenza ma per conservare l'ordine retto e universalmente stabilito di operare per mezzo delle cause seconde e secondo questa autorità di San Tommaso scrive il continuatore di Tornelli con Silvio che sebbene solo Dio deve pregarsi come autore delle grazie nulla di meno noi siamo tenuti di ricorrere anche all'intercessione dei santi per osservare l'ordine che circa la nostra salute il Signore ha stabilito cioè che gli inferiori si salvino implorando aiuto dai superiori della intercessione della Madonna e se così corre parlando dei santi similmente deve dirsi dell'intercessione della Divina Madre le cui preghiere appresso Dio valgono certamente più che quelle di tutto il Paradiso dice infatti San Tommaso che i santi a proporzione del merito con cui si guadagnarono le grazie possono salvare molti altri ma Gesù Cristo e Maria Santissima si sono meritati tanta grazia che possono salvare tutti gli uomini e San Bernardo parlando di Maria Santissima scrisse per te abbiamo accesso al figlio o inventrice di grazia madre di salute affinché per tuo mezzo ci riceva colui che per tuo mezzo fu dato a noi col che vuole dire siccome noi non abbiamo l'accesso al padre se non per mezzo del figlio che è mediatore di giustizia così non abbiamo l'accesso al figlio se non per mezzo della madre che è mediatrice di grazia e che ci ottiene con la sua intercessione i beni che Gesù Cristo ci ha meritati e in conseguenza di ciò che il medesimo San Bernardo in un altro luogo dice che Maria ha ricevuto da Dio due pianezze di grazia la prima è stata l'incarnazione nel suo seno del verbo eterno fatto uomo la seconda è stata la pienezza delle grazie che per mezzo delle preghiere dessa divina madre noi riceviamo da Dio quindi soggiunse il santo e Dio pose in Maria la pienezza di ogni bene in guisa che se in noi è qualche speranza qualche grazia qualche salute riconosciamo ridondare da lei che ascende dal deserto ricolma di delizi orto di delizi affinché da ogni parte si spargano e si dilatino gli aromi di lei i carismi cioè delle grazie sicché quanto noi abbiamo di bene dal Signore tutto riceviamo per mezzo dell'intercessione di Maria e perché mai ciò perché risponde lo stesso San Bernardo così vuole Dio ma la ragione più specifica si ricava da ciò che ci dice Sant'Agostino egli scrisse che Maria giustamente si dice nostra madre perché ella ha cooperato con la sua carità affinché nascessimo alla vita della grazia nei fedeli come membri del nostro capo Gesù Cristo ond'è che siccome Maria ha cooperato con la sua carità alla nascita spirituale dei fedeli così vuole Dio che la copri anche alla sua intercessione a far loro conseguire la vita della grazia in questo mondo e la vita della gloria nell'altro e perciò la Santa Chiesa ce la fa chiamare e salutare con termini assoluti la vita la dolcezza e la speranza nostra quindi San Bernardo ci esorta di ricorrere sempre a questa divina madre perché le sue preghiere sono certamente esaudite dal figlio fa ricorso a Maria lo dico francamente certo il figlio esaudirà la madre e poi soggiunse questa o figlioli è la scala dei peccatori questa è la mia massima fiducia questa tutta ragione di mia speranza la chiama scala il santo perché siccome nella scala non si ascende al terzo gradino se primo non si mette il piede al secondo e non si giunge al secondo se non si mette il piede al primo così non si giunge Dio che per mezzo di Gesù Cristo e non si giunge a Gesù Cristo che per mezzo di Maria la chiama poi la massima sua fiducia e tutta la regione di sua speranza perché Dio come suppone tutte le grazie che hanno dispensa vuole che passino per mano di Maria e conclude finalmente dicendo che tutte le grazie che desideriamo dobbiamo domandarle per mezzo di Maria perché ella ottiene quando cerca e le sue preghiere non possono essere respinte e consentimento conforme a San Bernardo parlano anche Sant'Efrem noi non abbiamo altra fiducia se non quella che è da te o Vergine sincerissima San Edelfonso tutti i beni che la loro divina amistà decretò di loro compatire stabilì di consegnarli nelle tue mani perciò che a te sono affidati i tesori e gli ornamenti delle grazie San Germano se tu ci abbandoni che sarà di noi o vita dei cristiani San Pier Damiani nelle tue mani sono tutti tesori delle divine commiserazioni Sant'Antonio chi domanda senza di essa tenta di volare senza ali San Bernardino da Siena in un luogo dice tu sei la dispensatrice di tutte le grazie la nostra salute è in tua mano in altro luogo non solo dice che per mezzo di Maria si trasmettono a noi tutte le grazie ma anche a Serisce che la Beata Vergine da che fu fatta madre di Dio acquistò una certa giurisdizione sopra tutte le grazie che a noi si dispensano e poi conclude perciò si è che tutti i doni le virtù le grazie si dispensano per le mani della medesima a chi vuole e come vuole lo stesso scrisse San Buonaventura tutta la divina natura essendo stata nell'utero della Vergine artisco dire che questa Vergine dal cui seno come da un oceano della divinità derivano fiumi di tutte le grazie acquistò una tale quale giurisdizione sopra tutte le fusioni delle grazie onde poi molti teologi fondati sulle autorità di questi santi piamente e giustamente hanno difesa la sentenza che non vi è grazia che a noi si dispensa se non per mezzo dell'intercessione di Maria così il Vega il Mendoza il Paciucchelli il Segneri il Puore il Crassè e molti altri autori col dotto Padre Natale di Alessandro il quale scrisse Dio vuole che tutti i beni aspettiamo da Lui mediante la potentissima intercessione della Vergine Madre quando invochiamo come conviene in calce e ne aduce in conferma il riferito passo di San Bernardo questo è il volere di colui che il tutto volle darci per Maria e lo stesso dice il Padre Contenzone il quale sulle parole di Gesù in croce dette a San Giovanni ecco la tua madre così soggiunse quasi dicesse nessuno sarà partecipe del mio sangue se non per intercessione di mia madre le piaghe sono fonti di grazie ma nessuno deriveranno ai rigagnoli se non per il canale di Maria o Giovanni discepolo tanto sarai da me amato quanto avrai amato lei del resto è certo che se Dio gradisce che noi ricordiamo i santi tanto più gli piacerà che ci avvaliamo dell'intercessione di Maria ciò che ella sopplisca col suo merito la nostra indignità secondo parla Sant'Anselmo parlando poi Sant'Omaso della dignità di Maria la chiama quasi infinita onda ragione dice che le preghiere di Maria sono più potenti appresso a Dio che le preghiere di tutto il paradiso insieme conclusione terminiamo questo primo punto concludendo insomma da tutto quel che si è detto che chi prega certamente si salva chi non prega certamente si danna tutti i beati eccettuati bambini si sono salvati col pregare tutti i dannati si sono perduti per non pregare se pregavano non si sarebbero perduti e questa è e sarà la loro maggiore disperazione nell'inferno l'aversi potuto salvare con tanta facilità quant'era il domandare a Dio le di lui grazie ed ora non essere i miseri più a tempo di domandarle grazie